Nel 1910 Ernest Rutherford, chimico e fisico neozelandese, superò il modello atomico di Thomson. Rutherford osservò le traiettorie dei raggi alfa, fasce di particelle cariche positivamente con massa pari a quella dell'elio, quando questi attraversano la materia. Nell'esperimento di Rutherford, la sorgente di raggi alfa è il radio, un elemento radioattivo, posto al centro di un cubo di piombo in cui è praticato un forellino molto sottile. Il fascio di raggi alfa va a colpire con una sottilissima lamina d'oro attorno alla quale è sistemato uno schermo fluorescente di solfuro di zinco, che quando viene colpito dalle particelle alfa evidenzia una luminescenza. La maggior parte delle particelle attraversa la lamina senza subire deviazioni, solo un numero ridotto viene deviato e pochissime, una su ventimila, vengono riflesse. Dato il grande numero di particelle non deviate, Rutherford suppose che l'atomo fosse costituito da spazio vuoto e che la maggior parte della massa fosse concentrata in una zona piccolissima, chiamata nucleo, con carica positiva. Secondo Rutherford, le forti deviazioni delle particelle alfa sarebbero dovute alla repulsione elettrica tra la carica positiva delle particelle alfa e la carica positiva del nucleo. La maggior parte dell'atomo è costituita da spazio vuoto in cui ruotano gli elettroni con carica negativa. Lo spazio vuoto è circa 100.000 volte il diametro del nucleo.